Massimiliano Bartolaccini è uno dei dirigenti storici dell'Ottica Sparviero Massimo Tafuri la finale play out, alla fine è andata bene così perché il campionato non si era messo benissimo diciamo che quest'anno non siamo stati molto fortunati, abbiamo avuto una serie di problemi però tutto sommato è un risultato che ci accontenta speriamo un altro anno di fare meglio, rifaremo comunque credo l'over 35 speriamo magari di arrivare ai play off il gusto della finale, anche se è una finale play out, lascia sempre qualche umore positivo? direi di sì perché comunque è sempre una finale, c'è anche un po' di tensione anzi ringraziamo Calcio Liguria che ci permette di giocare comunque anche nonostante il girone eliminatorio non fosse stato un gran chi passa il tempo ma non passa la voglia di giocare, insomma un po' una scelta la possibilità anche di scendere insomma su un campo di calcio, giocare e divertirsi magari evitare insomma di stare a casa e mettersi in pantofole certo, no no, la voglia c'è sempre ora quasi tutti abbiamo superato la soglia dei 40 però appunto finché ci saranno i tornei over 35 non so se puoi fare, c'è l'over 39 se puoi farete anche l'over 45 magari continueremo a giocare ecco, no la voglia c'è sempre certo come diceva Luca Bruzzone insomma ci sono anche gli impegni familiari però insomma si cerca di fare il possibile, è una passione e quindi insomma andiamo avanti insomma andiamo avanti Stai, stai, stai.